Poco meno di dieci secoli di carcere a tanto ammonta il totale delle condanne che vanno da un massimo di venti anni di reclusione ad un minimo di otto mesi che sono state chieste ieri dalla DDA di Catanzaro nella requisitoria del processo con rito abbreviato scaturito dall'inchiesta denominata Johnny. Il maxi blitz contro le cosche di Indrangheta che aveva portato il 15 maggio del 2017 al fermo di 68 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, porto e detenzione illegale di armi intestazione fittizia di beni, malversazione e danni dello Stato truffa aggravata, frode in pubbliche forniture e vari reati di natura fiscale. Al centro di tutto la gestione del centro di accoglienza richiedenti asilo Sant'Anna di Isola Caporizzuto tra le più grandi strutture per i migranti in Europa. Sono 85 gli imputati che hanno scelto il rito alternativo tra questi Leonardo Sacco, ex governatore della confraternita Misericordia che gestiva proprio il cara e oggi al carcere d'Urore Bibbia. Nei confronti di Sacco, accusato di aver favorito l'intromissione delle cosche nel centro di accoglienza, è stata chiesta la pena massima. Vent'anni sono stati chiesti anche per i fratelli Antonio e Fernando Poerio titolari delle ditte di catering del Sant'Anna controllate secondo l'accusa proprio dagli arena. In questo troncone processuale manca invece l'ex parroco Edoardo Scordio che ha scelto il rito ordinario insieme ad altri 37 imputati. La prossima udienza del processo con le arlinghe dei difensori è stata fissata per il 24 di settembre.